Sono stato un titulante, sono stato bellissimo, ho tantissimi amici, ho avuto sempre esperienze con la cistica positiva e sono sempre contento di tornare a sette. Una buona prestazione è natura, come se hai uscito dal campo, abbiamo sentito qualche fischio, qualche rollo, c'è stata la prevalenza di amplosione, non so, c'è stata la prevalenza normale, sono fischio, sono sempre contento di tornare a Groset, ho fatto finta di non sentire, penso che quando tornare a diventare la gente non si vuole bene, mi sono comportato bene, ho sempre fatto il massimo, sono tranquillo. Arrivi dall'esperienza inglese catapultato nuovamente in Serie B per salvare quest'anno? Sì, in Inghilterra purtroppo stavo giocando poco, quindi avevo voglia di giocare, c'era questa opportunità in Mando, una situazione di classifica difficile, però per me è una sfida, mi piace come le sfide, sono rimesso in gioco e adesso spero di aiutare, di contribuire con le prestazioni azionate per salvare il Mando perché secondo me è una buona squadra. a presto.